Sì, ma dicono, si vergogna. Ma cosa vuole? Ma come si permette? Io sono un padre di famiglia, sono uno che lavora. Ma chi è che la tocca? Ma chi la conosce? Vieni qui a tampinarmi. Ma vada via, va, volcacciona, prenda il taxi, se ne fa schifo il tram, linfomane. Brutaschi, Bosa, padre di famiglia, come me.